Mi chiamo Franco Arminio e di mestiere faccio il paesologo. In questo caso provo a ragionare un attimo di trasformazioni urbane. Ecco, io credo che debbano andare nel senso di una rigenerazione comunitaria. Perché? Perché una malattia di questo tempo, proprio negli Stati Uniti, nel cuore del modello occidentale, è stata chiamata epidemia di solitudine. Ora, se è vero che soffriamo di un'epidemia di solitudine, l'unica risposta può essere ravvivare la comunità, rimettere insieme le persone. La città deve essere un luogo dove le persone fanno delle cose insieme, gioiscono insieme, lottano insieme, si amano insieme. È una cosa che può rendere eroica la nostra giornata e uscire dalla mestizia in cui siamo caduti negli ultimi anni. Mi pare.